In questo nuovo video voglio riflettere sulla lettera alla chiesa di Laodicea nel libro dell'Apocalisse. Ciao, sono Cristian Morano e ti do il benvenuto al mio canale e ti invito a iscriverti se non l'hai ancora fatto attivando la campana di notifica. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi Queste cose, dice l'Ame, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio, io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo, oh fossi tu freddo o caldo, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle veste bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità E di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda, io riprendo e castigo tutti quelli che amo, abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed elli con me. A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col padre mio sul suo trono. Che a orecchie ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese. L'Odicea era la capitale delle banche, di fatti era una città prospera e inoltre era famosa per tre cose, la lana nera, un collirio per gli occhi e la sua acqua tiepida. Gesù con delle semplici analogie naturali porta alla chiesa di L'Odicea a riflettere sulla loro condizione spirituale. In primo luogo Gesù fa un confronto con la temperatura dell'acqua della città con la loro temperatura spirituale, perché la città di L'Odicea era costruita sul fiume Lico nel quale serviva l'acqua nella città, ma spesso questo fiume era secco e quindi i cittadini di L'Odicea usufrivano le acque delle due città vicine che erano Ierapoli e Colossi. Ierapoli era famosa per la sua acqua calda ed era un'acqua termale, di fatti c'erano i centri termali e c'era sempre un flusso di turismo e di persone che facevano il bagno con la speranza di ricevere guarigione per diversi problemi della pelle. Quindi l'Odicea usufruiva di quest'acqua termale e per trasportare l'acqua tra la città di Ierapoli e l'Odicea era stato costruito un acquedotto di 5 miglia. Si può capire che quest'acqua che arrivava all'Odicea non era più calda, era un'acqua tiepida. Ed essendo che era un'acqua termale, era un'acqua ricca di minerali e l'acquedotto spesso si bloccava quindi per evitare questo problema avevano costruito un sistema con dei tombini che si aprivano e si poteva avere accesso e rimuovere ogni forma di detrito. Ma quest'acqua quando arrivava alla città era completamente tiepida. E se la città di Ierapoli era famosa per la loro acqua calda, la città di Colossi era famosa per la loro acqua fredda essendo che quest'acqua sgorgava dal monte Kadmo e attraverso un acquedotto di circa 11 miglia quest'acqua veniva trasportata fino alla città di l'Odicea. Ma essendo che il clima in Turchia è un clima molto caldo, quest'acqua quando arrivava alla città di l'Odicea era un'acqua tiepida. Ed è per quello che Gesù dice sei tiepido e non sei né caldo né freddo perché è una semilitudine che sicuramente dava ai membri della chiesa di l'Odicea molta più rivelazione per la loro condizione spirituale, essendo che vivevano nel compromesso, essendo che Gesù stesso dice io ti sto per vomitare dalla mia bocca. E questo è un linguaggio usato nel libro del Levitico ed era connesso al peccato di idolatria. Gesù continua dicendo alla chiesa di l'Odicea perché tu dici io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. E di nuovo Gesù fa una similitudine con il mondo naturale e con il mondo spirituale, essendo che l'Odicea era una città ricca a livello naturale perché era la capitale delle banche e a livello naturale la città di l'Odicea era famosa per la produzione della lana nera nel quale produceva speciali indumenti. Riguardo alla città l'Odicea era famosa per una polvere nel quale mescolata con l'acqua di Ierapole e con l'acqua termale creava uno speciale collirio che guariva gli occhi ed era un collirio famoso fin dal tempo di Aristotele. Conoscendo questo contesto storico possiamo capire meglio le parole di Gesù quando dice ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non far parire così la vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda perché l'attitudine della chiesa di l'Odicea era piena di orgoglio e si credevano che non avevano bisogno di nulla ma in realtà Gesù stesso rivela la loro povertà, nudità e cecità spirituale e il loro bisogno spirituale di riaprire il cuore a Cristo e ricevere le realtà spirituali del cielo. Concludendo Gesù dice ecco io so la porta e busso se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta io entrerò da lui e cenerò con lui ed è lì con me perché con questa lettera Gesù invita la chiesa di l'Odicea al pentimento e ad avere di nuovo comunione e un'autentica relazione intima con lui. Se ti è piaciuto questo video condividilo, metti un mi piace, iscriviti al mio canale attivando la campana di notifica. God bless you. 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 Grazie a tutti.